Amici per la pelle sul teleschermo blu, benvenuti a una nuova puntata del TG Comics, la rubrica settimanale che vi tiene costantemente aggiornati su tutto quello che esce in fumetteria e dintorni. Questa settimana usciamo con un paio di giorni di ritardo perché martedì scorso il Corriere ha pensato bene di lasciare la roba dal distributore e quindi noi siamo rimasti senza, ieri non si è potuto registrare per cui ci ritroviamo ad oggi, però in compenso è arrivato altro materiale che possiamo inglobare. Sto dando le ginocchiate come un tempo faceva il buon Ganga, tra altre cose è passato, vi saluto a tutti quanti, per chi non lo conoscesse era un ex co-conduttore prima del Tonari, comunque saluti a tutti i vecchi teleaspettatori, notizia importantissima, ho iniziato la dieta quindi nei prossimi video probabilmente il mio volto occuperà meno spazio. La barba non ho avuto il tempo di farla, questo penso mi doni un aspetto un po' più saggio ma credo che ormai molti di voi non ci cascheranno più sulla mia saggezza. Che altro dirvi? Sto provando un paio di lenti nuove, speriamo che io riesca a leggere. Fine? Fine? Ah no c'è un'altra cosa che vi volevo dire, andremo ovviamente a Mazzarocca perché la roba è veramente 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 tanta, ok? Quindi se qualche volta salto un prezzo, qualche volta non vi mostro all'interno, eccetera eccetera eccetera, non ve ne abbiate a male, soprattutto con i titoli che hanno raggiunto un certo numero, non ci soffermeremo molto. Cominciamo con, eccolo qua, Planet Manga, Somali e lo Spirito della Foresta arriva al numero 4, ho letto il numero 1 e anche questo entra nella categoria dei recuperi che devo da fare, 7,50€, esseri fatati, misteri, spiriti e demoni in un viaggio che vi incanterà, anche in questo caso c'è un anime, una sovraccoperta del colore e questo è il tipo di disegni che potete trovare all'interno. Devo dire il primo numero interessante, per questo voglio continuare a leggerlo, non mi è dispiaciuto. Pensate bene che ieri ho avuto il tempo per leggere circa una ventina di pagine del primo numero di Atelier of Witch Hat, eh? Non so dove trovare il tempo per leggere tutto il resto. Saltiamo alla J-Pop, l'altra volta era super chiuso, eh? Super sigillato, il secondo numero di Super Heroes, o Heroes a dire la verità, con la X, con la X, questo indice che è materiale per adulti. Il prezzo, se riusciamo a leggerlo, è 6,50€, c'è un posterino colorato che non vi posso mostrare, la sovraccoperta c'è, questo vabbè diciamo che si può quasi far vedere, c'è solo un collarino, e vediamo se riesco a mostrarvi una pagina dove si capiscono i disegni senza scioccare o turbare nessuno. Questo è lo stile per J-Pop. Proseguiamo, eh? Qui un titolo attesissimo, Jojolion numero 21, Mamma Star Comics, prezzo 4,70€. Iroh Ikuaraki, stra adorato, stra amato il nostro paese, ovviamente Jojolion, le serie classiche, stanno vendendo come pochi e la Star non gliela fa, sta appresso con le ristampe, quindi siamo sempre in sofferenza con le quantità di vita vendere. Mamma Goen, anche Mamma Goen torna. A Town Where You Live 27, ma è uscito anche Tokyo Ellis 14 che abbiamo terminato, è 5,95€. Sovraccopertinato anche lui. Continuiamo sempre con Goen, abbiamo Otomen numero 16, prezzo 5,50€. E poi questa è una novità, Selfie of the Ion di Etorogi Shiono, che, oddio, è lo stesso di... Mannaggia la... Ubelblat? Attenzione, mi sorge uno a dubbio. Prezzo 6,95€. Siamo nell'anno 1001 del calendario di Ion. Tutti i gate di Ion sono passati sotto il controllo della coalizione militare interstellare chiamata Gatekeepers di Ion. Dopo che il suo paese è stato distrutto, Lisia, principe dell'alleanza di Zeission, pur vivendo camuffato da idraulico, desidera ardentemente uscire nell'universo. Etorogi Shiono ci prepara all'azione già dall'inizio di questa colossale opera spaziale ambientata in un remoto futuro dell'universo. Volume con sovracoperta pure lui. Eccolo qua. E troviamo delle tavole a colori anche all'interno. eh? E, ammazza, ce n'è un'altra ancora qua dietro. Vediamo un po'. Carta mi sembra buona. E questo è il tipo di disegni che trova dall'interno. Indubbiamente una produzione di Fanda Scienza. Bene così, si prosegue con Akenden numero 8. Eccolo qua, sempre Goen. Prezzo 4,95€. Questo è un grosso rapporto qualità-prezzo. 4,95€. Ragazzi, vi trovate un volumetto con sovracoperta. Anche un po' di colore dentro. Che volete di più? Eh, insomma. Cepo sta, eh? Cepo, cepo, cepo sta. Si passa poi a un altro tipo di materiale. Abbiamo il manuale del fuorisede di Casa Surace. Illustrazioni di Carlo Lauro e Giulia Zucca. Questo è per Panini Comics. Prezzo 12€. La vita fuorisede non è facile. Essere lontani da casa fuori portata dalle cure di mamma in una città che non si conosce, tra lavatrici infernali e proprietari di casa. Regole di convivenza e incapacità culinarie, aiutati solo da qualche pacco da giù. Andare a studiare in un'altra città può trasformarsi in un incubo. Casa Surace è una factory e casa di produzione nata nel 2015, ma soprattutto una famiglia allargata di cui fanno parte milioni di fan sul web. Oggi ha sede sia a Napoli sia a Sala Conselina, dove è realizzata gran parte delle sue produzioni. Dopo aver raccontato le radici e i valori dei piccoli paesi italiani, gli stereotipi da smontare sul sud e sul nord, le differenze culinari di tutto il mondo. Gli autori di Casa Surace, Simone Petrella, Renata Perongini, Alessio Strazzullo e Daniele Pugliese, tornano a raccontare l'argomento che li ha lanciati sul web. I fuorisede. Spero di aver letto bene tutti i nomi, altrimenti, cari autori, vi prego di perdonarmi. Eccolo qua, abbiamo detto, panini, books, books, libri, libri. Poi abbiamo per la BD, abbiamo Graveyard Kids di Davide Minciaroni. Attenzione, numero uno. Prezzo 13 euro. Il nuovo arrivato a scuola scatena un feroce domino di lotte senza quartiere tra le gang rivali all'interno dell'istituto. Rob può sembrare un ragazzino indifeso, ma per proteggere suo fratello minore è pronto a tutto. Bill e i suoi sgherri trovano in lui un inedito antagonista e diventeranno i suoi acerrimi nemici in un crescendo di violentissime sfide. Anche qui abbiamo una sovracopoda, che vi faccio vedere, sottocoperta, vi faccio vedere ovviamente. Mentre l'interno è questo qua. Questo genere per BD. Ok, perfetto. Poi Editorele Cosmo ci presenta il nuovo volume di Corum, le cronache di Corum. Eccolo qua, prezzo 12 euro e 90. Il Toro e la Lancia. Mark Sheinblum e Jill Thompson, dalle opere di Michael Moorcock. Super colorato, super fantasy, super molto interessante. Poi arriva Savage Dragon, eccolo qui di nuovo, del buon Eric Larson. 16 euro e 90. Questa è la ristampa che contiene i numeri dal 47 al 52, ovvero è il decimo TP. Intitolato Requiem. Per chi non conoscesse il dragone dalla pinna verde, questo è il contenuto. C'era anche un attimo un'immagine, come dire, molto comoda del dragone che ho intravisto. Poi, Drago Nero, attenzione, cartonatissimo, Sergio Beneditore. 24 24 euros o pleuris, cacciatori di kraken, vietti e rizzato. Convocato dalla Corporazione dei Naturalisti Imperiali, Drago Nero si mette sulle tracce di un kraken di aria, una gigantesca creatura come non se ne vedevano da secoli. Sulle sue tracce, Jan volerà fino alle estreme coste del Eola, in compagnia di un gruppo di cacciatori chiamati I Folli di Queman. Un'avventura ricca di colpi di scena e di incontri stupefacenti, colorata per l'occasione e arricchita da un episodio inedito, realizzato dagli autori per questa edizione. Quindi c'è dell'inedito dentro. Ah, però! Vediamo un po' se riesco a aprire la pagina per leggere la colorazione. Paolo Francescutto. E questo è il fantastico contenuto, veramente bello, bello, bello. Ammazza. Interessantissimo, devo dire. Ci, 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 strapiace. Anche questo approvatissimo. Poi c'è un numero di Topolino e vedo dei nuovi francobolli. Attenzione, con il contenitorino numero 3382. I francobolli in metallo celebrativi degli 85 anni di Paperino. Che bello. Oh, questa pure sarebbe una cosa da fare e collezionare. Assolutamente. 8 francobolli disegnati da Giorgio Capazzano e dedicati a Paperino. Stra, stra bello. Vediamo anche se trovo il prezzo. The price is 6,50€. Poi, 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 ritorniamo un po' di qua. Star Comics Dragon Ball con la full color edition del suo personaggio più famoso in assoluto. Eccolo qua, 6,90€. Il quinto numero della saga di Majin Buu. Eccolo qui. Volume con alette. Chiusa l'aletta. Adesso ho detto, sì, 6,90€. Lo rimettiamo a posto e poi salutiamo il tonari con l'emblema di Roto 2, numero 19. Eccolo qui. 5,90€, anche lui con sovracoperta per mamma. Star Comics. Non conosce Roto. Questo è il contenuto. Bene. Oh, da un'ambientazione fantasy abbiamo un samurai un po' particolare. Eccolo qua, il nostro immortale. Numero 10. Sempre Planet Manga. 14,90€. Sovracoperta per l'opera maestosa e sontuosa di Hiroaki Samura. Eccolo qua. Una goduria. I suoi disegnoni. Poi, 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 poi. Particolare questo volume per la K, sempre nella collana Umami, il numero 11. Abbiamo K at Work di Imiri Sakabashira. Attenzione. Vediamo se trovo qualcosa. Ecco, vediamo qua. In una bizzarra città in cui si mesclano influenze russe, medio orientali ed europee, la giovane Anne è alla ricerca di un lavoro e un bel giorno finalmente lo trova. Farà la cuoca in un sottomarino di K pirati. Dal momento in cui si imbarca sul Taco Bune ha dunque inizio per lei un viaggio indimenticabile fra paesaggi allucinanti, combattimenti contro esseri spaventosi, incontri con soggetti indecifrabili ed esperienze folli, in un crescendo di ammaliante surrealismo. Eccolo qua. Vi faccio vedere. Per tutti gli appassionati del genere, sicuramente questo è un alpo che fa per voi, ricordo, Mamma Star Comics, 15 euro volume con alette. Via. Trotterellando, trotterellando, arriviamo a Second Coming, L'Advento, Mark Russell, Richard Pace, Leonard Kirk e Andy Troy. Eccolo qui. Gesù è tornato ed è già abbastanza incavolato. 19 euro e 90. Contiene Second Coming dall'1 al 6. E questo è il contenuto. Eccolo qua. Sempre Cosmo Comics. C'è una specie di Batman dietro, mi sembrava. Non ho intravisto bene. Red Sonia, il volume 7, sempre per la Cosmo, 16,90 euro. Un nemico di lunga data sfiderà di nuovo Sonia. All'inferno? Punto interrogativo. Ecco qua il contenuto. Ed eccolo. Poi, poi, poi. E niente, continuiamo con la Cosmo? No, no, no. Somperelliamo di qua. Gran Blue Fantasy aumenta enormemente di volume, diventa un simile Pumamanga, 7 euro e 90, ma 7, eh, però, eh. No, 7, 7. Un appassionato fantasy. Anche in questo caso c'è l'anime. Bella sopra copertinona, con il cielo di sfondo. E questo è il contenuto. Siamo ormai al 7, dovreste aver imparato a conoscerlo. Ok? Bene, bene. Proseguiamo. Abbiamo detto, ancora manga. J-Pop Land of Lustrous numero 3, grosso successo avuto, 7,50 euro. Salutiamo anche il nostro amico Werther dell'Ethera che ha apprezzato molto questo manga. Mi ha incuriosito, ma ovviamente non c'ho il tempo di leggerlo, mannaggia la miseria. Quando passerà sto Covid che riprendo il treno e mi ritrovo le ore per leggere? Eh, chi lo sa? Golden Kamui Satoru Noda numero 20. Era un po' che mancava, ma pure lui mi sembra leggermente inspessito. 6,90 euro. Anche di questo sono straindietro con la lettura. Per riraccapezzarmi con tutti i personaggi dovrei fare proprio un re-reading, non un re-watching. Ma quando lo faccio? It's impossible. Forse è più facile per me trovare tempo per guardare la serie TV. Chi lo sa? The Rising of the Shield Hero. Anche questo stravendutissimo. Ormai un must. 5,90 euro. Sempre J-Pop. Sempre con sovraccoperta. Eccolo qui. Finiamo questa piletta di manga perché abbiamo Mobirus Sweet Gundam! Unicorn Bandesine numero 12. A proposito, siete andati sulla pagina del TG Comics su Facebook a vedervi quelle immaginine del Gundam che si muove. Che spettacolo! Prezzo 6,90 euro. E abbiamo un botto di gente. Harutoshi Fukui alla storia e Nozuo o Nozo Omori. Nozo Omori. Non faccio più la battuta ai disegni. Mobius Sweet a rota di collo e Daie. Poi intravedo intravedo un Re Zero starting life in another world. Truth of Zero numero 11. Eleven per voi. 5,90 euro sovraccoperta. Contenuto. Oh yeah! E poi invece una perletta della Flashbook. Flashbook è una delle case che nelle ultime settimane sta andando veramente alla grande. Cioè tantissime delle sue produzioni veramente vendono un botto. Tra le altre cose per fortuna è ritornato Given che veramente vende benissimo. 5,90 euro per le nostre situazioni segrete di Miyoko Kojima. Numero 5 per voi ragazzi. Number 5. La un po' di materiale Cosmo. Cosmo Comics ci presenta Doctor Who, dodicesimo dottore. Attenzione. Da quello che era il materiale pubblicato da Red Bull Lion. Qui c'è un nuovo editore. Boomsonico. Un botto di storie. Qui viene portato il numero 1. 19,90 euro. Contiene Doctor Who The Twelve Doctor Year 2 dal 9 al 10 e The Doctor Who The Twelve Doctor Year 2 dall'11 al 15. Quindi insomma dal 9 al 15. Eh sì, non ho capito perché hanno scritto due volte, però va bene. Va bene. E proseguiamo, proseguiamo con un altro titolo. Su due cose cosmo rimaste. Sempre l'omaggio al grande Michael Turner. Eccolo qui. 14,90 euro. E Aspen Universe Revelation. Eccolo qui. E ci vediamo un po' del contenuto. Eccolo qua. Poi Carnevale con Lorenzo Bartoli. Il dono di Eric. Grandi Maestri Special dopo Uomini e Topi. Eccolo qua. Un altro lavoro maestoso e sontuoso per questa coppia Bartoli Carnevale. Veramente, veramente fantastica. Eccezionale. Prezzo 5,30 euro. Tutto bello colorato. Passiamo a un po' di DC. Attenzione. La Panini ci presenta Legione dei Supereroi. Cartona Terrimo. Volume unico. 17 euro. Contiene Superman 14,15. Supergirl 33. Legend of Super Heroes Millennium 1,2. Il futuro di DC non è più quello di una volta. E abbiamo come autori Bendis, Raze, Andrejko, McGuire, Lee, Sorrentino, Cheung e Sook. Questo è il contenuto dell'albo in questione. Eccolo qua. E via. Così. Poi, altro cartonatissimo sempre DC. Action Comics. Gli Uomini d'Acciaio. Sarebbe il terzo volume di Action Comics. Un team map tra Lex Luthor e Superman. Contiene Action Comics 967 e 97... dal 967 al 972. Prezzo 17 euro. Gli autori all'interno sono Jürgens, Kirkham, Zirker e Segovia. E questo è il contenuto che vi aspetta. Eccolo qua. Eccolo qua. Eccolo qua. Bene, bene, bene. Di cartonato in cartonato eccolo qua. Ritorna in una nuova edizione. Dark Knight Metal per la DC Library. Eccolo qua. Volume unico che contiene Dark Knight Metal dall'1 al 6. Prezzo 24 euro. Niente sarà più come prima. La miniserie evento che ha portato all'attenzione del pubblico nuovi incubi per l'universo DC come il Batman che ride della fiatatissima coppia formata da Scott Snyder e Greg Capullo. Attenzione. E qui. Ci si leccano i baffi. Eh? Interessantissimo. Interessantissimo. Assolutamente. Da porre sotto la lente di ingrandimento. Poi abbiamo un po' di spillati. Wonder Woman numero 4. Prezzo 5 euro. Ecco su questi magari non c'è bisogno che vi dico il contenuto, le date, delle storie eccetera eccetera. Harley Quinn. Prezzo 5 euro. Eh? Harley Quinn numero 4. 5 euro anch'esso. Poi Aquaman numero 4. Pure lui. Prezzo 5 euro. Poi il penultimo numero di Doomsday Clock. Eh? Già stato annunciato anche il volumone riassuntivo. Prezzo 3 euro. E poi abbiamo Darth Vader spillato numero 62. Il prezzo è di eh 5 euro. Vader in trappola. Eh? Chi lo sa. vi faccio vedere così. Uno spaccato volante. Appoggiamo gli spillatini qui accanto. Poi abbiamo Hillbilly di Eric Powell. Arriva al numero 3. Apprezzatissima serie. Contiene i numeri dal 9 al 12. Prezzo 16 euro. Eccolo qua. Non c'è nessun'altra serie in vendita che possa avvicinarsi allo stile di Eric Powell. E guardate un po' la maestria eh del disegno. Beh? Bello 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 bello. Niente niente male. Poi è arrivato Mercy. Ah! Shono Mercy. Mi ricorda un certo album degli Slayer. E qui abbiamo invece Mirka Andolfo. Secondo volume. Prezzo 12 euro. E c'è anche la variant bellissima. Cioè da dirlo. Eccolo qua. Invece a 14 euro con la copertina di Art Germ. Veramente veramente una bomba. Questo è il contenuto invece dell'albo di Mirka. Eccolo qua. Bello 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 bello. Poi ultimo cartonato da questo lato abbiamo Marvel Saga Amazing Spider-Man. Un nuovo giorno. Eccolo qui. Prezzo 20 euro. Contiene Amazing Spider-Man del 1963 dal 546 al 551. Amazing Spider-Man Swing Shift Director's Cut del 2008. Azione, umorismo, grandi disegni e dialoghi come quelli degli anni d'oro del Tessi Ragnatele. Ma con un approccio moderno. Storie fresche e ebriose. Scritte e disegnate nel 2008 da un portentoso Arachno Team di autori che comprende Dan Slott, Mark Guggenheim, Steve McNiven, Phil Chimenez e Salvador La Roca. Mi ha piaciuto così detto La Roca. Posso andare a fare pubblicità? Forse solo quelle per radio però. La Roca. Ebbè la mia voce è diventata alquanto roca. Questo è poco ma sicuro. Oh che bello. Ma è capitato un text tra le mani. Ma che bello. Collana al manacchi numero 165. 7,50 euro. Oltre al celebre text Gianluigi Bonelli ha creato tanti personaggi sotto il segno dell'avventura. Qui riscopriamo Yuma Kid, un cavaliere del West dal misterioso passato e dalla pistola infallibile. Nato nel 1952 e ripresentato nel 1986 in una nuova versione. ai disegni due maestri del fumetto mondiale Mario Uggeri e Jorge Moliterni. Attenzione che robetta. Ma spettacolo. Ah queste sono proprio quelle cose gustose che te leggi proprio con un piacere enorme. Bello bello bello. Ah che gusto. 224 pagine. Bellissimo. Mi piace mi piace molto. Ci si intravede qualche cosa vero? Poi abbiamo Martimister presenta storie d'altrove con la donna che vide l'uomo invisibile. Eccolo qua. Il prezzo il prezzo è di 6 euro e 50. Vediamo un po' all'interno soggetto e sceneggiatura Carlo Recagno con i disegni di Antonio Sforza. Eccolo qua. Vediamo qualche cosa. Bello. Anche questo sicuramente molto interessante. Ritornano un po' di manga? No. Ho visto un altro a Bonelli e a questo punto vi faccio vedere il D-Landog speciale 34. Eccolo qui. Con la grande consolazione. 160 pagine. 6 euro e 50. E il pianeta dei morti del buon Alessandro Bilotta. E infatti soggetto e sceneggiatura sono i suoi con i disegni di Carlo Ambrosini. Ah che bella accoppiata ragazzi. Niente male eh? Bella bella accoppiata. Very very good. Bello bello. C'è da leggere qualcosa per l'indagatore dell'incubo. Questo manga lo mettiamo qua. Ma a sto punto lo facciamo vedere con l'eroe morto numero 18 per J-pop. Prezzo 6 euro. Con sovraccoperta. Ecco il contenuto. Poi abbiamo 37 numero 22. Sempre Planet Manga. 5 euro e 50. Questo è quello che vi aspetta. Eccolo qua. Poi il mio dannato rivale numero 2. Invece esce in una doppia versione. Sia così che imbustato. E contiene praticamente un'altra storia da il mio dannato rivale. Questo box viene 8 e 50. E questo 7 e 50. Sempre sovraccopertinato. L'opera di Hashigo Sakurabi. Planet Manga. ci sto. Vi faccio vedere anche un po' del disegno. Poi. Eeeh. Ah vedi questo ce l'avevo due volte. Ve l'ho già fatto vedere Granblue Fantasy. Vero? Mi sembra proprio di sì. Poi abbiamo Devil Extrasy numero 4 di 4. Torna Shuzo Ushimi. E si chiude questa mini. Il lato diabolico delle passioni in una commedia horror d'autore. Ed eccolo qua. L'autore dei Fiori del Male. Questo è quello che possiamo vedere. Volume con sovraccoperta anch'esso. Poi We Never Learn numero 4. Prezzo 4 euro e 90. Eccolo qua. Eccolo qua. Poi Planet Manga. Anche questo mi hanno messo doppio. C'è l'Immortale. L'abbiamo già visto. Nana Reloaded numero 14. Prezzo 6 euro e 50. All'opera grandiosa di Ayazawa. Sovraccoperta. Anche lui. Beh. Vendurissimo. Slam Dunk. Non ci sono bisogno di parole. 7 euretti. Taki Ikoinue. Clamoroso. Torna l'innominabile sorella dopo un po' di tempo. Di questo avevo letto il primo numero. Prezzo 5 euro e 90. Volume con sovraccoperta. I disegni erano molto belli se non ricordo male. Eccolo qua. Ida Poci. Star Comics. Poi sempre Star abbiamo Missions of Love numero 16. 4 euro e 30. Eccolo qui. Questo è il contenuto. Poi 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 ancora Star Perfect World numero 8. Serie molto molto apprezzata. 4 euro e 90. Con sovraccoperta anch'essa. E apprezzatissima sempre di più. Un buon movimento di arretrati. Devo dire. Iona la principessa scarlatta. Che arriva al numero 17. 4 euro e 50. Sempre Star Comics. Eccolo qua. Per poi continuare. Questo l'abbiamo già visto. Questo l'abbiamo già visto. Chissà per tutta sta roba doppia. Si saranno un po' ci spiegati quando non c'ero. E abbiamo sempre per la Star Masked The Divine Children. Michele Monteleone, Fiore Manni e Ilaria Catalani. Cartonatissimo. Per edizioni Star Comics. Eccolo qua. Nell'antichità gli dei usavano delle maschere per comunicare con gli uomini. Queste racchiudevano parte del loro potere divino. Quando la violenza degli uomini divenne insostenibile, gli dei decisero di confinarsi in un'altra dimensione. Dopo la loro partenza, le maschere rimasero sulla terra. Prezzo 14 euro. E vediamo un po' del contenuto. Eccolo qua. Eccolo qua. Molto 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 bene. Poi, poi abbiamo il Dragonero, anche lui doppio. Poi, che cosa? Eccolo qua. Abbiamo Carlotto, Ruiu e Ferracci. Ballata per un traditore. Feltrinelli Comics. Prezzo 16 euro. Da un soggetto originale di Massimo Carlotto, un noir avvincente, duro e toccante, che affonda nelle ferite di una città in cui la lotta contro il crimine nasconde insospettabili ombre. Molto interessante. E vediamo un pochetto del contenuto. La stampa è un po' chiara però, eh? Ecco. Questa torna forse perché serviva a ricordare momenti diversi? Probabilmente sì. Probabilmente sì. Allora, poi abbiamo, per la salda press, River, volume 1, cartonatissimo, solo i pazzi, gli assassini e i mostri possono salvare il mondo. 19 euro e 90. Autori Justin Jordan, Rebecca Isaacs e Alex Gimaraes. 6 guerrieri per un inferno. Questo è il contenuto. Super cartonuto. Eccolo qui. E come dice il buon mio amico Fabio, oppure una versione almeno brossurata, da 14 e 90. Non sarebbe stato male, no? O c'è e non l'ho vista. Boh, mistero. Poi, il maestro Toppi, sempre per i grandi maestri, 51, conflitti, prezzo 5,30 euro. E godete tutti quanti delle sue gigantesche immagini ed opere in l'immenso maestro. Poi abbiamo, sempre salda press, Satellite Sam di Matt Fraction. Eccolo qua. Insieme ad Hour Shaking, volume 1. 19 euro e 90. Molto, molto, molto interessante. Consigliata ad un pubblico maturo. Vediamo se si può far vedere qualcosa di questa collana maestro. Qualcosa si può far vedere. Eccolo qua, guardate che spettacolo. Niente, niente male. Bel, bel, bel volumone. Ritorno al nostro capitano. Eccolo qua, con la sua versione cartonatissima. Secondo volume, Memorie dell'Arcadia. 2 di 3. Le abissali tenebre dell'anima. Ricordiamo che è una versione franzosa, francese, del mito di Capitan Arlok. Molto bello, cartonatissimo, bel formato, bello tutto. Prezzo 14 euro. Poi tantissimi attendevano orgoglio e pregiudizio. Eccolo qua, Panini Disney, 15 euro e 90. Dopo l'Isola del Tesoro, Teresa Radice e Stefano Turconi si cimentano con la trasposizione disneyana. Di orgoglio e pregiudizio della grandissima Jane Austen. Guardate che spettacolo. Che bello. Pure questo non lo vorrei tanto, tanto, tanto leggere. Bellissimo. Molto, 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 molto bello. Poi abbiamo un altro Capitan Arlok, se vi interessa. Poi, per tutti gli amanti di Masamune Shiro, esce W, Tails, Cats, o Cat, questo è il 2 in realtà. Grossi disegni, grosse illustrazioni, grosse cose. Il prezzo è 18 euro per Magic Press. Bello. Tante cose dovrebbero avere la novità di Magic anche domani. Ma ovviamente non ce la facciamo a mostrarvele. Poi abbiamo un libro e un fumetto per un film che è adesso su Netflix. E no, la Holmes è la sorella di Sherlock e Mycroft. Abbiamo il Romance, 14,90 euro. E la Graphic Novel, a 12,90 euro. E vediamo un po' del contenuto della Graphic Novel. Devo dire, molto, molto bella e carina. Avevo anche iniziato a leggerla. Poi non ho avuto più tempo di finirla. Ma mi riprometto di farlo. Poi abbiamo Iaculai, i classici dell'erotismo italiano. Editoriale Cosmo. Eccolo qui. 7,90 euro. Vediamo se possiamo mostrare qualcosa. Ma questo ti può farlo vedere tranquillamente. E poi abbiamo... Arrivati a un paio di novità. Bao Terry Moore ci presenta 5 anni. Eccolo qua. Dobbiamo salutare a proposito Aldo Aschuras Corner, grande fan di Terry Moore. Prezzo 18 eurini. Come fa il mondo ad essere così incasinato quando ci sono così tante persone buone? Non lo capirò mai. Terry Moore riunisce le protagoniste di ogni sua precedente storia e le mette davanti alla più grande minaccia alla sopravvivenza che l'umanità abbia mai affrontato. E qui il grande Terry Moore all'opera. Spettacolo. Sicuramente. Bella profondità ai testi. E poi ritornano radice turconi con questo cartonatissimo, sempre per Bao, la terra, il cielo, i corvi. Prezzo 20 euro. Sono quelli come voi che educano quelli come noi alla ribellione. E allora perché diavolo continuò a starti appresso? Forse perché in Terry sembriamo più consistenti in mezzo a questa interminabile vastità. E spizziamoci un po' di quest'opera a colori veramente bellissima. Bellissima. Ricordiamo anche gli autori del Porto Proibito. Le ragazze del Pillar. Le ragazze del Pillar. Non stancarti di andare. Eccetera 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 eccetera. Poi abbiamo un paio di Marvel Must Have. Miss Marvel. E Spider-Man Ultimate Comics. Chi è Miles Morales? Entrambi a 15 euro. Kamala Khan e Miles Morales. Due eroi moderni. Ok? Molto interessante. Questa collana dei Must Have. New X-Men. Nuovo capitolo per il lavoro di Grant Morrison con i Mutanti. Affiancato da Phil Jimenez. Anche questo 15 euretti. La raccolta del Dio del Tuono. Eccolo qua. Di Jason Aaron. 18 euro. Del mondo. E World. La rinascita del Dio del Tuono. 18 euro. In questo caso. E contiene Tor del 2018. Dall'1 al 16. Eccolo qua. Che se non ricordo male io ho accannato dopo due o tre numeri. Spilladini spilladini. Spilladini spilladini. Yes. Perché abbiamo Amazing Spider-Man numero 46. 755 della vecchia numerazione. Prezzo 5 euro. Il nuovo Marvel miniserie. Che contiene la strada verso Empire. La guerra Chris Krul. 3 euretti. Poi di nuovo un numero 1 per i quaderni della galassia. Con Ewing e Cabal. Inizia da qui. Allora tocca a noi. Vediamo un pezzetto visto che è proprio nuovo nuovo nuovo. Eccolo qui. L'ho detto 3 euro. Sì. Savage Avengers numero 12. Prezzo 3 euro. Ok. Poi Captain Marvel numero 16. Prezzo 5 euro. Con la sua variant PlayStation. Eccolo qua. Sempre 5 euro. Non è finita qui perché ci ritroviamo anche New Mutants numero 6. al prezzo di 3 euro. Marvel's X numero 4. Il prezzo è di 3 euretti. L'integrale di Spider-Man. Che mi stava scappando come un ragno che sfugge e fugge. 4 euro e 90. Riparte la musica. Il Corbidden riapre. con Torment. Attenzione. E poi rimanendo in tema di ragni e chiudendo la trasmissione qui abbiamo le strisce quotidiane del nostro ragnetto di quartiere che vanno dal 67, dal 79 all'81. Perché ho detto 67? Non lo so. 79 e 81. Notate Stan Lee John Romita. Boom. Che robetta ragazzi. Più di 700 strisce consecutive di Stan Lee John Romita. Con Larry Lieber e Fred Kida. Clamoroso. 45 euretti. Veramente da non perdere. Bene ragazzi. Con questo è tutto. Vi ricordo di iscrivervi a tutti quelli che sono i nostri canali social. Sia su Facebook che su Instagram. Potete... Che dice Gianni? Grandi cose per il Lucca... Ah sì, per il Campfire. Beh, avremo modo sicuramente di parlarne. Avremo grossissime, grossissime sorprese per la fine di ottobre e inizio di novembre. Ma magari dissemineremo un pochino di indizi qua e là appunto anche sui nostri social Facebook e Instagram. Vi ricordo soprattutto che ho aperto anche il canale Telegram dove metto notizie. Tutto l'art sharing che non trova posto sulla pagina Facebook del TG Comics. Ma soprattutto tante offerte che possono aiutare il canale del TG Comics. Se volete tante volte sostenerlo. Per questo è tutto. Le battaglie sono tante. Vieni avanti. Ragnetto gigante è che il Cipri Merlo vedi sempre su tutti quanti voi. Ciao alla prossima. Miau!